I miei inizi sono stati nel bar a raccontare barzellete, a cercare di far comico in tutte le maniere, poi ho cominciato a fare la comparsa, era generico, ho fatto la clacca in televisione, battevo le mani lì in quei programmi degli anni, primi anni 70, mi ricordo dove sta Zazza, era uno dei spettacoli che frequentavo di più perché a parte mi divertivo, poi c'era come un teatro cabaret, no? Tile Liberty, dove c'erano i miei idoli del momento, che erano quelli del Bagaglino, Laferri, Il Lionello, Pippo Franco, Montesano, lì cominciai, mi ricordo, a 3.000 lire al giorno, Oscar, Lourde forse, in più mi facevo un po' di cinema, la comparsa però strettamente generico, oppure magari generico con una battuta, due, piano piano, piano piano, fino a cercare di fare il teatro, che non avendo avuto io possibilità di scuole, di altre cose, era fondamentale per imparare, per rubare un po' il mestiere, no? Primi 70, cioè dal 73 al 77, 78, io ho fatto qualche cosa in cinema, anche qualche scena d'azione, così facevo quei film, sei Roma violenta, Napoli violenta, mi infilavo dappertutto, dovevo lavorare, poi avevo degli obblighi, ne avevo già una figlia nel 74, dovevo per forza lavorare, fino poi piano piano, piano piano, una battuta qua, un'altra là, poi il teatro con Squarsina, chiesi un provino, me lo fecero al Teatro Stabile di Roma, all'Argentina, e andò bene, mi presero lì, dopo arrivò Enrico Maria Salerlo, l'anno dopo, poi dopo arrivò Calenda, Antonio Calenda, piano piano, devo dire, sempre a salire, e in questo frattempo il cinema pure diventava un cinema diverso, diventavano ruoli veri, insomma, anche se piccoli, ma ruoli veri, non proprio di servizio assoluto. Il primo film è 73, ma quello non lo conterei perché era un'inserzione sul giornale, Mino Quattrini faceva un film che si chiamava Il colonnello Buttiglione diventa generale, e li sposi a questa inserzione raccontando una bazelletta al provino, e mi prese, però dopo quello, dove io comunque ero scritturato come attore, ho continuato pure a fare generi con la comparsa, perché non è che c'era un storico, chi me chiamava, chi me voleva, chi me cercava. Fino agli 80, 81, 82, l'incontro con Califano, la commedia musicale con Califano che andò malissimo, però con Ubi Franco, e da lì è cominciata una, diciamo, un'amicizia forte, importante, molto significativa. Due e tre anni papà, un film con Pippo Franco e Califano, dopo quella commedia musicale, da lì piano, però intanto il doppiaggio veniva fuori, e cominciavo a vivere, cominciavo a vivere, non agiatamente, ma comunque più che sufficientemente, col mestiere dell'attore, ecco. Nel frattempo c'era Martino, Sergio Martino, Latagna, con cui ho lavorato molto, fino ad arrivare al Bagaglino, 91, 92, da lì devo dire, e poi prima della popolarità, perché il Bagaglino ti dà. Ti vedevano tutti, facciamo 10 milioni, noi 11, sembra da ridere, facciamo audience da Festival di Sanremo, noi, per anni ho fatto lì, poi dopo me ne andai, no, il vincitore è rimasto nel mio cuore, insomma, la persona a cui tengo di più, mi sono morti tutti, i miei punti di riferimento importanti, Bruno Corbucci, Lando, Califano, Vanzina, Gigi, Proietti. Io nel giro non li vedo più, e questa è una cosa che mi angoscia molto, sono stati dei punti di riferimento per me, per la mia carriera soprattutto, per la mia vita, anche per molti versi, devo dire, è importante, è brutto rivoltarsi, girarsi e non trovare nessuno, di quelli di cui tu ti fidi, quelli che sono stati realmente importanti nella tua vita, al di là del discorso artistico. Mi tengo stretto Vincitore, mi tengo stretto Enrico Vanzina, Stefano Reali, che è stato un altro grande amico con il quale ho lavorato molto in televisione, molto in televisione. Ma il tempo passa, e quando cominci ad accorgerti che il tempo passa, a me almeno a volte mi deprime un po'. Il tempo passa, se dice, è così, no? Quando invece poi te ne accorgi che è passato, il tempo è che continua a passare, non è granché bello. Però la vita è questa, la vita va dove vuole lei, non dovete fare attenzione. Magari potessi combaciare sempre con i tuoi desideri. Questo sia per il lavoro che per la vita di tutti i giorni. Continuo a lavorare, un po' di meno, ma anche perché non ho più bisogno di affannarmi. Ho un bel sodalizio in questo momento con Enzo Salvi, ormai da qualche anno, che è un altro di gavetta, come lui. Sai, quando la vita non ti regalano niente, ne trovi in altro che, come te, lo capisci subito che vita ha fatto. Quindi quando ci parli, parli su un altro piano. Capisci che nel sentirlo parlare, nel guardarlo, anche per le cose che ti racconta, capisci che ha fatto una vita un po' abbastanza parallela alla tua. Anche se lui è più giovane di me, ma la qualità della vita, il sistema di vita è stato un po' abbastanza vicino, un po' lo stesso. Con Enzo è un buon sodalizio, continua ad avere un buon sodalizio con Stefano Reali, anche se lavoriamo un po' di meno adesso insieme, solo per scelte artistiche, nel senso che lui magari fa delle fisce, fa delle cose dove non c'è spazio. Sento sempre Enrico, ho fatto un film che ha fatto su... Lockdown all'italiano. Lockdown all'italiano, bravo. Ho fatto una partecipazione, c'era Miri con Righi, pure un buon rapporto, Memphis l'ho incontrato a Montemario, perché io sono di là. Lui era un ragazzino che scriveva poesia, faceva... Era intelligente però in gamba. Poi andò da Costanzo e li si lanciò. Non faccio cose particolari, se da quando sto qua poi l'ho scelto io di venire qua, la qualità già talmente bella, no, della vita, perché quando alzi la mattina, acquitarsi la mattina, qui e ti metti a respirare qua fuori, è un'altra vita, è un altro respiro, è un'altra dimensione. Credo che sia quella poi giusta alla mia età ormai, no? Lavoro, continuo a lavorare. Con Enzo facciamo adesso il sesto di Ndon e il settimo. E' una vita che facciamo questi due improbabili personaggi. Insomma, lui è un finto prete, io sono lo zio vescovo. E funziona però, piace piace. Continuano a volerlo, a farlo. E mi fa piacere farlo, insomma, con lui poi in particolare. E faccio uno spettacolo, questo è importante dirlo, uno spettacolo su Franco Califano insieme al maestro Laurenti. Alberto Laurenti è quel maestro di musica, un grande maestro, un grande, un grande, a parte una grande persona, che è stato vicino a Franco negli ultimi trent'anni. Come serato, come accompagnatore, come suo musicista fisso, ma soprattutto come coautore, perché le musiche, le tante canzoni, queste ultime, anche il tempo piccolo di Laurenti, no? La musica. E con lui mi diverto molto, è una cosa impegnativa, facciamo dei concerti ricordando Franco, è una cosa che mi piace molto più ormai che fare il cabaret. Anche perché poi facendo questa cosa su Franco, il pubblico là, sai, uno che come per me ha fatto sempre il cabaret, passa uno che fa ride, uno pelato, un altro con una capoccia così, un altro è quello che un cabarettista vuole, che no, che ha sempre cercato di fare, perché gli ha dato spunto per fare la battuta. Quindi continuo lo stesso a fare un po' il cabaret, a portare avanti la mia comicità, pur in un contesto di musica e di poesia, perché quando parlo di Franco parlo di poesia, io non parlo di canzoni. Il tempo passa e i ricordi, devo dire, sono per lo più belli. Qualche cosa da dimenticare c'è, ma l'ho dimenticata, per cui non te la posso neanche dire.